adesso dobbiamo parlare delle piante ad effetto ad influsso sulla tiroide in realtà abbiamo già accennato a questo discorso e quindi è questa fase anche una fase di ricapitolazione l'importante sapere che noi abbiamo in natura c'è tutto e quindi abbiamo sia delle piante di supporto e di stimolo tiroideo le abbiamo già citate in realtà sono la vitamina somnifera che stimola il comparto t4 sostanzialmente e sono le alghe che stimolano tutta la tiroide apportando iodio e portando anche amminoacidi minerali in generale quindi le alghe sono particolarmente importanti preciso ancora una volta a parte gli scherzi che la provenienza delle alghe è molto importante quindi non si può prendere voglio dire le alghe cinesi ecco perché dobbiamo essere molto controllate quindi anche l'origine degli integratori è estremamente importante e poi ci sono delle 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 piante di inibizione che l'idea l'abbiamo già citato la soia e tutto il grande comparto dei delle fabace l'aloe però ho sentito non so dei rumori che l'aloe è stata proibita in italia o mi sbaglio marco ecco però diciamo noi possiamo dire possiamo allargare un po il campo possiamo dire aloe vuol dire liliace liliace vuol dire aglio cipolla eccetera eccetera e possiamo dire che tutte le liace ha un effetto di inibizione e tiroidea sostanzialmente come tutte le fabace quindi soia e liquirizia e così via come i broccoli anche quindi tutte le piante della famiglia delle brassicacee del crucifere mentre viceversa la vitamina sornifera è una ranuncolacea e quindi dopo un ormai uno può fare che le ranuncolacea sono quasi tutte a parte la vitamina che sono abbastanza tossiche e poi tutte le altre ricordiamoci la pianta più importante adesso che abbiamo in ambito cardiologico e abbiamo visto come sia importante proteggere il cuore per i pazienti l'idea che è il biancospino quindi questo è i concetti che abbiamo già in parte detto ricordo anche la vitamina sornifera con il suo effetto disintossicante a livello epatico permette una buona funzione epatica che è importantissima nella sequela degli eventi tiroidei anche perché c'è un corretto metabolismo degli annuli tiroidei l'ascofilum l'abbiamo detto riusciamoci che ha anche un effetto di riduzione sulle citochine infiammatorie e non dimentichiamo che le citochine infiammatorie sono dannose non solo nella tiroidite ma anche in tantissime altre patologie senza andare tanto lontano nel covid aumenta il tumuloso che ha fatto l'alfa aumenta l'interlochina 1 aumenta l'interlochina 6 e quindi oserei dire che le alghe sono importanti sono molto attuali come rimedio vediamo la soia sarebbe come il tappazzone della fisioterapia quindi estremamente importante e poi il biancospino che ha una serie di ecco in una diapositiva precedente avevo fatto vedere e avevo citato l'ipertiroidismo e avevo citato l'inderali beta bloccanti per l'aritmia la tachina di ipertiroidismo ecco direi che il biancospino è certamente un'ottima alternativa all'impiede di queste farmaci e poi naturalmente tutti i pazienti chiedono vogliono sempre avere qualcosa sul piano dietetico perché adesso la dieta è molto chiaramente la dieta è molto importante però c'è anche un po' questa ricerca costante della della terapia della terapia che sia un po' che prende in considerazione il discorso dietetico ecco sostanzialmente e allora ecco che sul piano dietetico abbiamo alcuni input molto molto importanti in particolare alcune cose le abbiamo già dette no il discorso alghe e discorso però diremo qui vediamo in questa diapositiva i cibi fermentati il il ghi il buro ghi le alghe ancora volta e tutte queste queste questi cibi che fanno bene alla tiroide sostanzialmente il buro di cocco il pesce selvaggio ecco ricordo tra l'altro questo importante omega 3 che si chiama advanced omega 3 che è omega 3 più vitamina d da salmone selvaggio che è molto importante quindi ecco sono tutte cose importanti per un equilibrata da impiegare insieme nell'equilibrio della funzione tiroidea poi chiaramente se c'è una tendenza all'ipotiroidismo dovremmo lavorare cioè integrare di più con le alghe viceversa col discorso della dei broccoli sostanzialmente ricordo alcune cose così collaterali i cetrioli non è che siano importantissimi per la tiroide però siccome la tiroide nel problema di ipotiroidismo vediamo spesso un accumulo di liquidi i pazienti si lamentano di essere appesantite avere questa ritenzione idrica i cetrioli che a breve arriveranno sulle nostre nei nostri supermercati farci una bella una bella una bella diremmo centrifuga ecco io consiglio spesso nella quale mettiamo prima il sedano il cetriolo la carota quindi un bellifere vi ricordo la stessa famiglia del don quai quindi sedano carota e il cetriolo invece che è una cucurbitacea quindi che favorisce l'urinazione è una cosa molto buona quindi c'è anche bisogna stimolare i nostri pazienti non solo a bere ma per esempio bere anche con questi con questi estratti adesso tutti hanno l'estrattore e quindi metti mai la mela l'ananas il limone io qui ho citato la papaya lo zaino la barbabietola sono tutti diremo dieci cose che possiamo alternare nei nostri nei nostri centrifugati adesso in estate momento giusto per farsi centrifugati ma adesso si esce poco anche se uscirà e quindi uno viene anche invogliato a farsi delle cose buone in casa e delle cose salutari bene direi che sostanzialmente concludiamo facciamo il capitolo conclusivo che è quello dei farmaci le avevo già accennato prima ma ci sono dei farmaci che dobbiamo tenere presente perché fanno particolarmente male alla tiroide ricordo questo farmaco l'almeno di Arone che è dato molto frequentemente ai pazienti anziani che hanno delle aritmie ecco quando c'è una certa età ovviamente o c'è l'insufficienza cardiaca o c'è l'aritmia insomma che è una cosa molto frequente l'aritmia tanto che devo dire che molte volte è su base è su base anche nervosa alcune volte è su base di tipo alimentare comunque al di là di questo una cosa che danno spesso all'almeno di Arone e lì questo danneggia la tiroide quindi cerchiamo di associare sempre a questa terapia con l'almeno di Arone sostanze che supportino la funzione dell'idea come il selenio e lo zinco il litio è una sostanza molto pericolosa vorrei dire per la tiroide perché può portare proprio a dei danni tiroidei a dei noduli tiroidei anche molto pericolosi quindi bisogna pensarci bene quando si prende il litio e quindi la cosa migliore che possiamo fare è almeno dare un po' di selenio ma ancora meglio sarebbe cercare di dare anche abbiamo visto prima degli amminoacidi l'utamina abbiamo visto anche per l'assinio bipolare insomma quindi l'assinio bipolare si può in parte antagonizzare con i rimedi naturali e quindi anche attivando la serotonina e così via e poi anche frequente l'interferone l'interferone che viene molto usato nelle patologie virali tra queste per esempio in particolare è stato utilizzato molto per le patite C dannese in maniera specifica la tiroide quindi in questo discorso dobbiamo nell'ambito dell'anamnesi del paziente chiedere che farmaci prende, che farmaci ha preso cioè noi dovremmo arrivare sempre di fronte a un ipotiroidismo, a una tiroidite arrivare sempre ad avere almeno una ipotesi del perché perché ovviamente che poi magari non è detto che sia al 100% ma è un'ipotesi del perché questo paziente gli sia scatenato una tiroidite o un ipotiroidismo perché le cose è vero che c'è sempre una base genetica permissiva però c'è sempre qualcosa che scatena non possiamo dire sempre come dicono certi pazienti ma questo ce l'aveva anche mio padre tante volte il papà c'è il diabete però se tu riesci a camminare e a mangiare poco il diabete non ti viene insomma questo è il concetto oppure tante volte uno dice ma è l'età sì ma è l'età l'età è la fonte di tutti i mali però è anche vero che abbiamo visto prima abbiamo accennato al resveratrolo e il resveratrolo è un anti-aging quindi non è che le cose siano inevitabili quindi non bisogna mai rassegnarsi alla malattia o non fare qualcosa per antagonizzare la malattia questo concetto di base secondo me è estremamente importante ecco e poi naturalmente ricordo una volta la pillola anticoncezionale al di là del fatto che che depaupera dal selenio, dallo zinco e dalla tirosina ma anche da altre vitamine importanti per la tiroide edermo attiva delle proteine che legano gli ormoni tiridei quindi li rendono inattivi nel loro circolatorio e poi diminuisce il DEA che voglio ricordare ancora una volta che se vogliamo fare il DEA è l'ormone dell'invecchiamento quindi la diminuzione del DEA vuol dire invecchiamento precoce che ricordiamo che io tante volte nei pazienti di una certa età se devo intervenire con con magari una terapia ormonale leggera, naturalmente calibrata eccetera eccetera do il DEA il grande invecchiamento e il grande anti-aging e quindi la pillola oltre a creare danni a livello a tiroidea crea anche danni a livello a questo livello quindi in generale crea un problema di tendenza all'invecchiamento precoce andando ad alterare gli equilibri ormonali dell'organismo quindi non è una cosa che deve essere presa diremmo così a cuore leggero grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti